Secondo l'Istat, nel mese di aprile l'Indice Nazionale dei Prezzi al Consumo ha registrato un aumento dello 0,5% su base mensile e un incremento dell'8,3% su base annua. Tra i prodotti più aumentati la pasta, più 17,5%, 23% in più rispetto allo scorso anno per il gelato e per il pane, che costa in media 5,31 euro al chilo. Aumentano frutti e ortaggi a causa degli eventi climatici estremi dei costi dell'energia, mentre il paniere che comprende latte, formaggio e uova ha subito un aumento medio di oltre il 19%.